Weblog e attività didattica Nella stesura della programmazione dell'attività didattica ed informatica per l'anno in corso, lo sforzo principale che mi prefiggevo era quello di fare una buona didattica, che utilizzasse il computer ed internet per sviluppare realmente abilità e competenze negli allievi, inserendoli all'interno di un progetto di formazione scolastica più ampio. I weblog si sarebbero rivelati utili per avvicinare gli studenti con coscienza critica alla multiforme realtà di internet, scrollare lo stato di passività di molti allievi nell'utilizzare internet, stimolare la capacità di selezione e vaglio delle informazioni online, produrre contenuti originali connettendoli all'interno di una rete di rimandi e link che aprono il confronto con altri utenti. Le riflessioni metodologiche che mi hanno spinto a guardare e conoscere diverso la creazione di un blog sono state principalmente queste. I weblog consentono di comprendere più a fondo la natura di internet, la vastità e l'interconnessione delle informazioni. Possono così diventare un utile punto di partenza per la creazione strutturale di contenuto di siti web originali o repertori di link, tenendo conto che i rinvii ipertestuali costituiscono una delle caratteristiche principali dei weblog. Attraverso i weblog è possibile ricavare uno dei maggiori vantaggi delle ICT, tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, preparare gli allievi agli impetuosi cambiamenti del mondo del lavoro. I weblog consentono infatti di accedere rapidamente alle idee ed esperienze di altra gente, comunità, culture, ricercare, esplorare, analizzare, scambiare e presentare informazioni con creatività e capacità critiche selettive. Per un docente, comunque, i weblog presentano anche una molteplicità di utilità pratiche, capaci di sfruttare il web come mezzo veloce di comunicazione con gli allievi. Attraverso weblog di classe, infatti, un docente può fornire lezioni, compiti e comunicazioni agli allievi, moltiplicare le possibilità di accesso a materiali di particolare importanza attraverso appositi link, potenziare l'interazione della classe anche attraverso discussioni e chat online, fornire ulteriori stimoli per approfondimenti e compiti extrascolastici, mantenere i contatti con gli studenti assenti, coinvolgere i genitori nelle attività dei figli. Costruendo weblog, infine, gli studenti raggiungono obiettivi scolastici e al tempo stesso professionali. Sebbene, infatti, si presentano costruiti su template, i weblog possono essere profondamente modificati attraverso un utilizzo avanzato del codice HTML. Sarà quindi possibile stimolare gli studenti ad approfondire le loro capacità di content manager, gestione dei contenuti, e di web designer, realizzazione di siti web. Il tutto attraverso lavori online, che, sul piano professionale, si presentano come dei portofolio elettronici. Per vedere quanto realmente il mio progetto fosse riuscito nel suo intento, ho somministrato agli alunni dei testi, invitandoli ad esprimersi liberamente. Ed ecco i risultati, alla luce dei quali è emersa la maggiore attenzione rivolta alla lettura e alla scrittura. Mentre, pur conoscendo i pericoli che possono incontrare su internet, gli alunni si sono trovati tutti d'accordo nel ritenere questo strumento come un potente mezzo di informazione, comunicazione e conoscenza. Riguardo alle abitudini alla lettura, 14 bambini su 21 hanno detto che sono aumentate le loro esigenze di lettura, mentre 10 su 21 hanno modificato il loro modo di scrivere. Come ho detto prima, la triade di parole che identificava internet è stata individuata dai bambini in informazione, comunicazione e conoscenza. Nonostante essi siano stati messi in guardia in merito ai rischi che soggetti deboli come loro possono incontrare nel navigare in questo mare virtuale, i bambini non si sono lasciati per nulla a intimidire e hanno continuato tranquillamente a viaggiare su questo mezzo. Il merito al comportamento tenuto su internet per 14 su 21 questo è sempre stato corretto ed educato, mentre 13 su 21 non ha mai pubblicato messaggi inutili e frivoli né ha criticato gli errori degli altri. I bambini non hanno usato il linguaggio stupido, anzi, sono andati a cercare notizie materiali che a volte erano molto al di sopra delle loro competenze e delle loro conoscenze. Comunque, 14 bambini su 21 non ha pubblicato commenti e post che non riguardassero la discussione collettiva. In merito al comportamento tenuto in seguito alla pubblicazione del blog è interessante notare come 13 bambini su 21 non ha mai letto i post e i commenti dei compagni prima di pubblicare il loro. Questo, nonostante io li sollecitassi continuamente, io do una spiegazione in quella smania di protagonismo che è un simbolo tangibile del nuovo costume sociale dove ognuno pensa di essere unico e inimitabile e tiene in poco conto il pensiero degli altri. A conferma di ciò il risultato è che 12 bambini su 21 non si sono mai preoccupati, ad esempio, di cercare notizie sulle pagine delle New. Quello che è interessante notare è che loro hanno cercato non solo di raccogliere sempre scrupolosamente le informazioni ma li hanno anche evagliati attraverso il confronto con gli altri mentre hanno prestato poca attenzione nel riportare purtroppo i link da cui attingevano informazioni. La cosa che mi fa piacere però sottolineare è che lavorando insieme per un unico obiettivo questo ha fatto sì che tra di loro si rafforzasse la collaborazione e il confronto modificando non soltanto il loro modo di relazionarsi e di rapportarsi ma addirittura risultando anche legami di amicizia e di complicità. Ovviamente mi premeva sapere anche come gli alunni avessero vissuto l'esperienza dell'insegnata accanto a loro tenendo presente che il mio pensiero collima perfettamente con quello di un grande pedagogista il quale riteneva che l'azione del maestro debba essere volta a mettere la creatività della luna al primo posto. egli infatti sosteneva che il maestro si trasforma in un animatore, in un promotore di creatività non è più colui che trasmette un sapere belle confezionato un boccano al giorno un domatore di puledri, un ammaestratore di foche è un adulto che sta con i ragazzi per esprimere il meglio di se stesso per sviluppare anche in se stesso gli abiti della creazione, dell'immaginazione, dell'impegno costruttivo in una serie di attività che vanno ormai considerate alla pari nessuna delle quali si è intesa come trattenimento svago al confronto di altre ritenute più dignitose nessuna gerarchia di materie e al fondo una materia unica la realtà affrontata da tutti i punti di vista a cominciare dalla realtà prima la comunità scolastica lo stare insieme il modo di stare e di lavorare insieme in una scuola del genere il ragazzo non sta più come un consumatore di cultura e di valori ma come un creatore e produttore di valori e di cultura queste sono parole dell'indimenticato pedagogista e giornalista Gianni Rodari nella sua grammatica della fantasia ed ecco le risposte degli alunni per 18 bambini su 21 la presenza dell'insegnante in rete è stata vista come un'opportunità per imparare ora vi presento una breve carellata di alcuni post pubblicati dai bambini che mi piace ricordare a conferma del loro impegno e della loro partecipazione non li leggerò per non tediarvi ma mi preme comunque sottolineare dei punti più salienti di questi momenti del nostro lavoro le poesie di Jessica le riflessioni di Easter le dolci poesie di Maria Chiara i racconti horror di Matteo un racconto a quattro mani di Miriam e Federica le riflessioni di Checchio che è stato quello che più degli altri sembrava intimidito di fronte a questa macchina ma ben presto superate le sue reticenze anche Francesco è riuscito a dare il suo interessante contributo i disegni collage dell'artista Chiara le interessanti informazioni sulla magia di Antonio Gravina appassionato di Harry Potter il diario di viaggio di Davide gli appelli sociali di Lisa una pagina del diario di Camilla gli accorati appelli di Antonio Traversa quando non veniva a scuola una piccola poesia di Luca sulla primavera un pensiero per la maestra Rossella da parte di Stefania una poesia a quattro mani del duo Luca e Lisa la dolce dichiarazione di amicizia di Ilaria sono stati tantissimi momenti da ricordare compresi i loro commenti ma non posso dilungarmi molto senza correre il rischio di tediarvi per cui vi rinvio al blog che rimarrà comunque aperto per tutti coloro che tra i ragazzi vorranno continuare a postare per tenerlo in vita il link è grazie a tutti ma soprattutto a loro i bambini in questo cd che ho realizzato per darlo ai bambini come ricordo di questo loro anno scolastico ho inserito anche alcuni lavori realizzati dagli alunni con powerpoint sono tutti belli e testimoniano con quanta voglia impegno e fantasia si sono dedicati a questa attività che li ha coinvolti su più fronti dalla scrittura alla grafica all'animazione di testi ed immagini a voi bambini il mio applauso e l'augurio che il vostro entusiasmo diri sempre ricordatevi solo una cosa un mio piccolo suggerimento per la vita mettete amore in tutto quello che fate vi lascio dedicandovi a una mia piccola composizione scritta ricordando i miei figli sembra ieri sembra ieri timidi impacciati passi sgambetti festosi piccole corse con le braccia aperte gioia negli occhi colmi di future aspettative per un radioso domani a cui vai incontro passi sempre più sicuri su gambe agili e sgattanti giovane gazzella corri incontro al tuo domani avanzi spedito or decisi sono i passi tuoi sereno il viso dolce e fiducioso come sempre il tuo sguardo teso il tuo sorriso il tuo domani è divenuto il tuo presente ed io io ti guardo in questa linea che la mia mente traccia dalla terra al cielo di più non lo so è il tuo e il tuo e il tuo è il tuo